Sui giornali si parla spesso di Garda Trentino e succede che le bellezze del territorio fanno a volte un vero e proprio giro del mondo. È il caso di un recente servizio pubblicato dalla prestigiosa rivista giapponese Excellent Italy, Bella Italia, che nel numero dello scorso dicembre ha dedicato un ampio resoconto all'itinerario dal titolo Per acqua e per terra sui passi di Goethe. Il servizio del periodico, edito a Tokyo, è il frutto della collaborazione con il professore Franco Farina, storico curatore delle passeggiate letterarie del Garda Trentino. I due redattori di Excellent Italy, Bella Italia, specializzata nel settore cultura, arte e gastronomia europee, hanno voluto rivivere il viaggio in Italia di Goethe, scrittore e poeta molto amato in Estremo Oriente, ripercorrendo le tappe da Bolzano a Malcesine. Grazie.